Musica Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento col Biancherosso TB Sport e già iniziato il conto alla rovescia per la gara di domenica alle 18 contro l'Avellino c'è aria di grande affluenza di pubblico perché l'Avellino è primo in classifica perché il Bari ha vinto a Catania e diciamolo pure anche perché l'orario propizio è favorevole è un bel orario, domenica alle 18, un orario dove uno può tranquillamente pranzare a casa e poi andare allo stadio non abbiamo ancora i primi dati della prevenza ma sono convinto che la risposta dei tifosi del Bari e l'invito all'appello di Sciaudone che non a caso ha ipotizzato 25 mila spettatori, l'ho fatto anche io ieri diciamo potrebbe essere accolto per intanto parleremo di calcio e di sport a 360 gradi con l'assessore allo sport del Comune di Bari Pietro Petrozzelli Ciao Pietro, ben ritrovato, spesso ci arrivano domande sugli stadi, sugli impianti sportivi di tanto in tanto dobbiamo fare il punto della situazione fra le società che si sono rivolte a noi per capire che cosa è possibile fare a livello istituzionale immagino che siano rivolte anche personalmente a voi c'è quella del basket in carrozzina che i giorni scorsi ha lanciato un vero e proprio appello perché fanno fatica ad iscriversi al prossimo campionato, qual è la situazione? Io ho incontrato Gianni in più di una circostanza, conosco le loro, anzi devo dirvi che sono in debito con lui avevo promesso che andavo a trovarlo ad un allenamento loro della settimana scorsa ma ho avuto un po' di impegni ma ci andrò presto e conosco la situazione, ad oggi nelle disponibilità dell'assessorato allo sport non abbiamo risorse, sono state tutte spese quelle per il 2014 però come amministrazione comunale stiamo tentando di individuare un riequilibrio di bilancio cioè un aggiustamento sul bilancio che si fa alla fine di novembre delle risorse E avanza qualcosa questo discorso? Eh sì ma dobbiamo lavorare perché avanzi qualcosa e poi esperienze come quelle di Gianni sono importanti perché coinvolgono delle persone che hanno dei disagi o fisici o psichici e gli danno la possibilità di sentirsi attivi e fare sport e questa è una cosa molto bella C'è una piccolina, prendiamo subito la telefonata, pronto? Enzo? Sì, ciao Buon pomeriggio a Mimmo Bianco Lazzabari Ciao Mimmo, ciao Un saluto all'assessore Salve Enzo, niente, io vorrei dire una cosa che ieri ho lasciato a metà Sì Ho visto che poi c'è stato il dibattito su Caputo Sì Io ho sempre detto che Caputo è un ottimo giocatore di Serie B è un buon giocatore, non dicevo la prestazione che è stata la forza della squadra che è andata bene volevo dire solo quello Sì, sì Ho visto che ieri poi ci hanno chiamato gli altri telespettatori Volevi ribadire il concetto, va bene Io dicevo, Caputo, io l'ho sempre apprezzato e quando ci incontriamo gli dico che lui è un giocatore da Bari perché mette l'anima in campo anche se non è un grande goleador perché Ciccio più di 15-16 gol di solito non ha ne va però se gli mettiamo un vera riete a fianco può diventare ancora più devastante Grazie per il tuo intervento, grazie, grazie Intanto vediamo le fotografie della vittoria di Catania, fotografie di Giuseppe Corcelli Io su questo ripeto, anche ieri ho obiettato al di là del fatto che 15-16 gol, 17 gol come due anni fa sono tanti ma poi sono 17 gol fatti giocando a tutto campo perché Caputo non è un giocatore statico da ultimi 16 metri Caputo è uno che si danna per la squadra per cui il valore dei 15-16-17-18 gol di Caputo che gli inauguriamo almeno 18 quest'anno è superiore rispetto a quello di tanti altri attaccanti che magari giocano in maniera rapinosa che aspettano il pallone per fare gol Poi quest'anno la coppia Caputo-De Luca speriamo che sia la migliore coppia del campionato hanno già segnato senza strafare 6 gol, 3 a testa quindi insomma staremo a vedere Peraltro De Luca ha parlato poco fa allo stadio è stato lì per noi Cristian Siciliani quindi fa poco vi faremo vedere le immagini della conferenza stampa della Zanzara così è chiamato Giuseppe De Luca 080 501 9998 per le vostre telefonate il Bari ha due stadi in questo momento deve gestire due stadi è una convenzione che dura un anno in attesa di una convenzione pluriannale di qualcosa di più sostanzioso o addirittura di una gara noi ci stiamo interrogando come amministrazione comunale C'è stato qualche accenno di polemica su questo discorso della concessione degli stati diciamo al Bari senza gara C'è una regittima richiesta di informazioni da parte di alcuni consiglieri comunali di opposizione ma su questo guardate sono completamente trasparente per la collettività altrimenti io non avrei firmato questa cosa è un vantaggio economico perché noi sediamo uno due impianti sportivi al Bari è perché il Bari si fa carico della manutenzione ordinaria e straordinaria dicevamo prima quanto le risorse sono poche poterci alleggerire noi come amministrazione comunale dei costi di manutenzione straordinaria da parte sugli stadi ci dà la possibilità di concentrarci sui piccoli impianti sportivi sui campi di periferia sui palestroni ora però questo è il principio che governa il mio mandato e il mandato dell'amministrazione comunale la modalità è in caso di una concessione pluriennale ci sarà il protagonismo del consiglio comunale perché verrà una delibera approvata dal consiglio comunale in caso di una gara, di un bando se la vedrà il contratto appalti io ricordo che la questione di estate è stata sempre per voi per il comune di Bari negli ultimi tempi una rogna perché era difficile da gestire perché non c'erano le risorse c'è un altro amico in linea poi spieghiamo bene i termini di questa convenzione così facciamo chiarezza cosa ne ha il Bari oltre all'utilizzo dello stadio in che modo può recuperare risorse importanti che dovrà, ripeto che sta già tirando fuori per aggiustare diciamo così il San Nicola e poi dovrà aggiustare anche il della Vittoria in maniera significativa in condizioni come dire complesse c'è un altro amico in linea pronto? pronto, buonasera ciao Enzo sono Luigi da Bari ciao Luigi, ciao ci mando dei saluti la Roberto che lavorava in multi servizi va bene è il nostro collega che si conosce senti un altro io volevo dire un'altra cosa caputo per me è proprio tu che ce l'abbiamo si la persona che ha chiamato prima poi ha detto una tante 16 gol scusa è una tante quanti gol è una tante perci gol capito è uno due speriamo che ha detto la squadra io la stavo di giocare come l'hanno scorso per bene e adesso se continua così forse forse a gennaio serve solo qualcosina da comprare e andiamo in serie a sicuro va bene grazie vedremo insomma io credo che sia scoccata la scintilla con la vittoria di Catania però bisogna dare anche seguito a questa vittoria perché insomma non dobbiamo passare poi dallo sconforto dalla delusione per un pareggio in casa all'esaltazione ora improvvisamente il Bari ha risolto tutti i suoi problemi è chiaro che è la continuità la serie dei risultati che ti fanno capire che la via intrapresa è quella giusta sicuramente la vittoria di Catania ha ricreato un certo ambientino niente male a Bari perché l'ambiente barese è caldo e unico per certi versi dovremmo avere ancora delle immagini dell'arrivo in aeroporto della squadra che credo che sia un fatto unico al mondo che la gente aspetti per una vittoria qualsiasi insomma la squadra in aeroporto questo accade quando hai vinto un trofeo quando hai vinto la coppa dei campioni la Bari è bastato vincere all'ottava giornata di campionato 3-2 a Catania e via la gente ha avvertito questo bisogno ed è bello visto il mio collega che ha fatto il titolo e è tornata la Bari perché in effetti quello è il Bari per i tifosi la Bari cioè una squadra di grande coinvolgimento popolare ma sì ma in questi casi tu hai detto giustamente non bisogna vivere gli eccessi dello sconforto quando c'è un pareggio in casa o quando non si presume che non ci sia un gioco particolarmente efficace né una vittoria fuori casa bisogna dar tempo guardate l'anno scorso con tutta una serie di altre condizioni societari eccetera però era la stessa squadra che ha vissuto due gironi uno di andata e uno di ritorno completamente diversi quindi l'aspetto motivazionale è importante questa è una vittoria di Catania che fa morale quindi capisco l'entusiasmo i titoli l'accoglienza l'accoglienza all'aeroporto poi naturalmente i tifosi devono avere un po' di calma e di tranquillità sapendo che la cosa importante è credere e giocare e mettere in campo l'entusiasmo che si registra sugli spalti c'è un'altra telefonata pronto? pronto? no niente non riusciamo a sentire la micro in linea allora facciamo così Pietro torniamo sulla questione stadia approfittiamo i termini di questa convenzione col Bari perché alcuni ce l'han chiesto in questi giorni quali sono? cioè il Bari si fa carico della manutenzione ordinaria e straordinaria e diciamo che è un peso che era diventato quasi insopportabile per le casse comunali ricordiamo che la vicenda risale già ai tempi all'era Matarrese dell'era Matarrese in ultimi tempi era quasi degenerata non dimentichiamo che a un certo punto i Matarrese avevano detto se dobbiamo farci carico anche della manutenzione straordinaria facciamo prima di andare a giocare altrove no? si è addirittura ipotizzato un Bari ad Andrea ricorderai questo discorso allora da una parte quindi il Bari si fa carico togliendovi una grossa un grosso onere dall'altra invece il Bari come può realizzare profitto attraverso l'utilizzo dello stadio perfetto allora innanzitutto noi ad agosto quindi nella vicinanza dell'inizio del campionato abbiamo fatto questa convenzione annuale immediatamente per dare una copertura giuridica alla nuova società di poter intervenire nei lavori necessari per ottenere l'iscrizione l'agibilità senza ora entrare nei dettagli una serie di lavori necessari al San Nicola cosa che la società ha fatto noi loro si fanno carico della manutenzione ordinaria è straordinaria non pagano naturalmente un canone un canone d'affitto ma non credo che sia stato mai pagato un canone d'affitto per l'utilizzo del San Nicola anche quando prima la vecchia società non si faceva carico dei lavori di manutenzione straordinaria e l'idea ma non per quest'anno ma per la concessione pluriannale o per la gara insomma quando lo avranno per un numero di anni congruo è di avere la possibilità di incrementare le fonti di entrata e come stanno facendo tantissimi stadi europei immaginatevi dei ristoranti immaginatevi dei bari insomma dei locali in cui il bari promuove il proprio merchandising in cui valorizza valorizza gli aspetti tipici anche della tifoseria e della società l'amministrazione comunale rispetto a questo vuole favorire ho sempre utilizzato un'immagine una frase per chiarire i rapporti i rapporti con la società simpatia senza privilegi perché simpatia perché noi vogliamo fare la nostra parte per aiutare la nuova società a mantenere vivo anche il livello di entusiasmo non solo dentro il campo ma anche fuori dal campo così come sta facendo con una serie di accordi con le scuole piccole società di calcio cioè c'è una percezione di una società che affronta in maniera più moderna il proprio modo di intendere la gestione di una squadra calcistica e all'interno del campo devono dimostrarlo loro non possiamo scendere in campo e giocare dobbiamo fermarci perché c'è la pubblicità poi torneremo a parlare dovrebbe esserci De Luca ma anche di una lodevole iniziativa che riguarda sempre lo sport a tra poco